Sai Eric può interpretare diversi ruoli perché ha grande partecipazione alla gara, quindi è sempre disponibile, ha grande corsa, ha ottima tecnica, vede la porta, quindi puoi sbizzarrirti con lui. Quindi certo è che la sua storia dice che tutto quello che riguarda la zona di centrodestra del terreno di gioco è il posto dove lui si sente più a suo agio. Poi dopo un po' più avanti e un po' più indietro, sai dipende anche dalle vicende come vanno le gare e i risultati che le gare danno e quindi dopo magari si interpretano come le posizioni si interpretano in maniera più o meno positiva. Credo che sia migliorato molto, ho visto che ora riesce ad interpretare delle situazioni che prima faceva fatica a interpretare, altre ce l'ha come dote naturale, però ha qualcosa di importante e io credo che in futuro possa avere dei vantaggi. Corriere della Sera Buongiorno, avevo due curiosità, una più tattica. L'anno scorso, forse per l'unica volta, Luis Enrique proprio contro l'Udinese non ha fatto possesso palla ma ha fatto lanciare lungo molto spesso De Rossi. L'Udinese che giocava con cinque centrocampisti, addirittura credo Pinzi a fare il trequartista. Lei domani non ha il regista, che era stato sempre pianici in queste partite. Pensa che l'Udinese sarà ancora una squadra che giocherà così, cioè che si può attaccare con i lanci lunghi e poi le volevo chiedere invece se, lei ha parlato di Natale come un fenomeno, detto con tutto il rispetto del mondo, il calcio italiano, i migliori del calcio italiano sono Totti, di Natale, Pirlo. Non è un po' pericoloso per un calcio affidarsi così tanto solo a giocatori sopra i 35 anni? Io credo che ultimamente il calcio italiano stia esprimendo dei valori importanti fra i ragazzi, fra quelli più giovani. E mi sembra anche che ci sia la tendenza ad utilizzarli, i calciatori giovani, perché il problema sta tutto lì, no? Se non si ha il coraggio di sceglierli, di tenerli in un gruppo, ma più che altro di metterli in campo poi, quando è il momento, perché si spera sempre di andare verso un discorso di esperienza che è pur sempre importante. E' evidente che i ragazzi non hanno la possibilità, guardiamo Romagnoli domenica scorsa per esempio, se gli dai la possibilità di dimostrarlo te lo dimostra che c'è, così è stato per Marcos, così è la Mela, insomma ce ne abbiamo tanti noi per esempio dei ragazzi giovani, ma così ha fatto il Milan ultimamente e sta ottenendo risultati. Questo non toglie che se uno è bravo, è bravo anche al di là dei dati anagrafici. A riguardo la partita sotto aspetto tattico, l'ho detto prima, è una partita delicatissima, veramente una di quelle da prendere con le molle, perché non sai come interpretarla, è difficile, non riesci a leggere una situazione così precisa che ti dice, beh, questa è la linea della gara, almeno teoricamente, perché poi dopo le gare un conto è sotto aspetto teorico come valutazione, un conto invece è quello che ti presenta in campo. Questa è particolare perché non capisci come prendere, cioè capisci, sai quali sono le difficoltà, sai quali sono i pericoli e quindi presumi di poterli contrastare e presumi di poterne prendere vantaggio. Però un conto è dire e un conto è fare, di sicuro è una partita di quelle particolari. Corriere dello Sport. Salve, buongiorno mister. Ciao. L'ultima volta l'Olimpico con soddisfazione ci ha detto che ha già raggiunto tanti degli obiettivi che si era posto. Allora le chiedo, secondo lei, qual è il merito più grande di Andrea Zoli nel cambio di rendimento della Roma? Nel cambio? Nel rendimento della squadra. Mi ripeto, ho già detto tante volte, credo personalmente di non aver fatto nulla di particolare se non esprimere chiaramente con l'assillo del tempo, perché questo è il nemico principale, nell'esprimere quello che è la mia idea di calcio. Però se vogliamo indicare qualcosa di preciso direi che lì credo essere stato bravo nel mettere a frutto, nel creare sinergie all'interno sia dello spogliatoio che all'interno della società che anche all'esterno, dentro Trigoria, vabbè, l'abbiamo già detto tante volte, però anche all'esterno, io nella serata alla quale ho partecipato in settimana mi sono reso conto che c'è, sì, sai, anche i risultati ti danno una mano in questo, però c'era un ambiente e una voglia di partecipazione, di affetto, di dimostrazione di affetto, che secondo me esce fuori dal fatto che io abbia fatto delle richieste precise di aiuto e di sinergie. Dentro Trigoria siamo riusciti a crearle e tutto funziona come io avevo nella testa. Trigoria